Se vi servono crediti passate dal link in descrizione e con il codice MENZMR avrete subito un 5% di sconto Salve a tutti ragazzi sono sempre io MENZ, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo ritornati qui con la carriera allenatore con l'Inter Ragazzi prima di cominciare questo episodio però vi ricordo che questo giovedì è uscito un episodio infrasettimanale della carriera allenatore con l'Inter Quindi ragazzi se ve lo siete persi ci sono state un po' di partite di campionato più qualche giorno di mercato Ve lo lascio qui a schermo mi raccomando se ve lo siete persi andate a recuperarlo Cerchiamo di arrivare a 1000 mi piace in questo episodio ragazzi per un prossimo episodio magari anche infrasettimanale ragazzi Vi ringrazio come al solito per il supporto, vi ringrazio per i consigli che mi avete lasciato sotto negli episodi precedenti Per quanto riguarda le formazioni da poter utilizzare in campo con l'Inter Perché ragazzi come sapete la nostra squadra è veramente molto camaleontica Possiamo utilizzare un sacco di moduli Questo è quello più classico però potremmo usare anche un 4-1-2-1-2 Sarebbe veramente interessante se no un 4-2-4 Un 4-2-2 Sarebbe veramente tanta roba poter utilizzare diversi moduli per far comunque girare tutti i nostri ragazzi Come al solito saluto un po' di voi Saluto Mattia, Kevin Sena, Davide Gagliardi, Guglielmo Avversano, Lorenzo Amiconi, Gian Piero Santamaria, Alessandro Adrisani, Tommaso Pieragostini, Sela, Marco Valianti, Lorenzo Zaccaro, Luca Iello, Francesco Ambrosetti, Cristian Nozzi, Francesco Leonardo, Simone Potenza, Ialo Giumbo e Tiziano Zubiani ragazzi Anche oggi vi saluto Ultima cosa, prima di iniziare le partite ragazzi abbiamo in stand by la nazionale spagnola Ancora per qualche settimana se non sbaglio Quello che volevo fare io era non abbandonare ovviamente l'Inter ma fare una carriera allenatore parallela Quindi non so, la domenica carriera allenatore con l'Inter e infrasettimanale carriera allenatore con la Spagna Quindi ovviamente la carriera allenatore con l'Inter non la vado ad abbandonare Assolutamente no, però le inizierei una anche con la Spagna giocandoci l'Europeo, i Mondiali eccetera eccetera Ovviamente non facendole amichevoli perché sarebbe veramente inutile Comunque avete capito la mia idea, farei in ogni caso una carriera allenatore a parte Oggi ragazzi si esordisce in Champions League contro l'Egia a Varsavia Poi faremo Allas Verona, Napoli e vedo quanto diventa lungo, non so se fare anche il Wolfsburg Ah e ragazzi cosa importante per favore non ditemi sotto nei commenti perché non fai una carriera allenatore con un'altra squadra Invece con una squadra forte come l'Inter, come devi iniziare una carriera con una squadra piccola Allora ragazzi non è che FIFA dà le regole e dice dovete iniziare una carriera allenatore per forza con una squadra di serie C2 Perché se no non è una vera carriera Ho voluto iniziare la carriera con l'Inter perché io tifo Inter e perché volevo cercare di fare un buon cammino L'ho iniziata con l'Inter anche perché l'Inter veniva da un campionato merdoso, assolutamente merdoso E quindi cercare di arrivare in Champions per poi provare a vincerla è una carriera allenatore Cioè se non è puntare a degli obiettivi questo non so cos'altro possa essere Comunque ragazzi ci andiamo a giocare la prima partita di Champions League contro l'Egia a Varsavia Voglio cambiare un attimo la formazione Voglio restare sempre con questo 4-2-4 contro questo Legia Con la coppia Icardi Griezmann in attacco Felipe Anderson, De Ulufeu con Guiat Elements perfetto, ottimo E pronti a subentrare direi che ci siamo Pronti a subentrare loro, sono più che ottimi devo dire, assolutamente Ok ragazzi, direi che si può giocare questo match Andiamo, Legia a Varsavia e Inter Il cammino dell'Inter in Champions League parte dalla Polonia Contro Legia a Varsavia Legia a Varsavia e Inter al Wild Stadion Ecco il girone dell'Inter, Real Madrid, Wolfsburg, Legia a Varsavia e ovviamente l'Inter Come possiamo vedere la squadra che andiamo a affrontare oggi è sicuramente la squadra che oggettivamente è la meno pericolosa O comunque la, ma anche la meno conosciuta diciamo così anche in termini proprio europei come storia Questa è la formazione delle Legia a Varsavia Non credo di conoscere nessuno No, però gioca con un 4-2-3-1 Quindi un modulo che noi conosciamo, molto compatto a centrocampo e quindi ci saranno pochi spazi Noi come avete visto abbiamo cambiato formazione Siamo voluti andare su un 4-2-2-2 se vogliamo dire così Con Tielemans dobbiamo fare della massa a centrocampo e ripartire comunque con Felipe Anderson, De Ruffeu E in attacco Griezmann-Icardi speriamo diano spessore la nostra manovra offensiva Parte adesso il cammino dell'Inter in Champions League Sempre sul pezzo e mi raccomando forza Inter Zero sulla fascia in seguito da Masuaku Troppo spazio è lasciato a zero Forza Masuaku, recupera ancora a zero Dai, dai Masu Bravissimo, così Ottimo break di Felipe Anderson Ottimo anticipo Buonissima la giocata per Mauro Riccardi Che può andare Mauro Riccardi, c'è mezzo Felipe Anderson Il tiro di Felipe Anderson Kusak ci arriva Si distende Ottimo miracolo qua del portiere del Legia E prima occasione dopo 15 minuti Un'occasione veramente concreta per l'Inter Buonissima la parata del portiere polacco se non sbaglio Esce bene l'Inter dal pressing del Legia-Varsavia Icardi C'è largo De Luffeu Può andare De Luffeu Attenzione perché mezzo c'è Griezmann La mette mezzo De Luffeu dove c'è Griezmann Che colpisce E c'è l'1-0 Dell'Inter Antoine Griezmann Ma che lavoro di Gerard De Luffeu sulla fascia Ottimo cross in mezzo Probabilmente il portiere del Legia-Varsavia doveva uscire O poteva in qualche modo uscire Qui Griezmann però Anticipa tutti Dusan Kusak probabilmente poteva fare di meglio Anche perché si Viene dato autogol del portiere In ogni caso Griezmann ci ha messo Ci ha messo la gamba De Luffeu ci ha messo tanta corsa 1-0 dell'Inter Passiamo in vantaggio Molto bene Anche un po' fortunato Attenzione a Mauro Riccardi che recupera un gran pallone Subisce fallo Allora qua Niente L'arbitro non fischia Legia-Varsavia che si è già alzato ragazzi Come potete vedere dalla minimappa Sono tutti alti A centro campo Filippi Andersson qui serve Masuoco Attenzione Dobbiamo sfruttare adesso questo momento del Legia Che Si è un po' Fatto prendere da quel gol Subito Masuoco la mette in mezzo Dove arriva Riccardi Ma Kusak grandissima uscita Perfetta Poi attenzione perché Filippi Andersson è ancora lì De Lufeu Prova il tiro di sinistro La palla ancora lì Griezmann Con calma Ragioniamo Attenzione a Legia-Varsavia che è lì Oh mamma mia Il tiro Purtroppo non so pronunciare il suo nome Ma è andato largo di molto Però da questa inquadratura sembrava più verso la porta E finisce qui il primo tempo ragazzi 1-0 per l'Inter Autogol di Kručak Kručav se non sbaglio Ma comunque Buonissima azione Dell'Inter De Lufeu Bella palla per Tielemans Prova il tiro da fuori Tielemans Deviato Kusak Ci arriva bene La respinge in calcio d'angolo Fortunato qui Tielemans Che Il quale tiro stava diventando Veramente pericolosissimo Masuoco Bella palla per Griezmann Sente l'arrivo di un difensore Il tiro di Tielemans Signori Signori che gol ha fatto Yuri Tielemans Pazzesco Un gol da fenomeno Un gol Pazzesco Di Tielemans Da fuori aria Ci aveva già provato in precedenza Il tiro era stato deviato Ma qui Tielemans L'ha messa da solo Sotto l'incrocio dei pali Buon lavoro qui di Griezmann E di Masuaco Griezmann sente l'arrivo del centrocampista L'appoggia Tielemans Che poi di destra incrocia E di nuovo sotto l'incrocio Un gran tiro qui Non c'è stata nessuna deviazione Il gol è tutto di Tielemans Signori Faccio un cambiero Esce Deleufeo Metto Iñaki Williams E basta per il momento Tielemans Attenzione Guardate che lancio per Iñaki Williams Appena entrato Lo stop di Iñaki Williams Può andare Iñaki Può andare Iñaki Il tiro di Iñaki Williams Ha aspettato un po' Ha temporaggiato un secondo Ha permesso Al centrale difensivo Di intervenire Al meglio Faccio un altro cambio ragazzi Perché Riccardi mi sta Sia Icardi Che Griezmann Mi stanno decedendo Quindi metto Paco Alcacer Al posto di Icardi E aspettiamo un attimo Sia per Griezmann Che per i due Centrocampisti centrali Yedvai C'è mezzo Musacchio Tielemans Ancora la palla lì Yedvai In qualche modo Benissimo Yedvai Come al solito Iñaki Williams Per Tielemans Bella palla per Paco Alcacer Può andare Paco Grande stop Il tiro di Paco Alcacer Purtroppo sbilanciato Non è riuscito a dare massima potenza A questo tiro Un ottimo movimento di Paco Ancora l'Inter però Pericolosissima Con Dogbia Tielemans Di prima per Paco Alcacer Davanti al portiere Tiro di Paco Alcacer Signori Che gol ha fatto Paco Alcacer Da una posizione Defilatissima Grandissimi gol ragazzi Non è fuori gioco Perché c'è Il difensore Terzino Dall'altra parte Che lo teneva in gioco Guardate dove l'ha messa Paco Alcacer È il destro Il suo piede E si vede Adesso la Javasavi È completamente sparito Attenzione perché può andare Iñaki Williams La mette a mezzo Adesso Iñaki Williams Dove c'è Paco Alcacer Che è un ottimo colpitore di testa Anche E si è visto Con questo anticipo Purtroppo non ha inquadrato bene La porta E finisce qua 3-0 per l'Inter Ottimo approccio Ottimo inizio Ottimo esordio Della nuova Inter In questa Champions League 3-0 Allegia Varsavia Una buonissima partita Di carattere Di velocità Real Madrid e Wolfsburg Pareggiano 1-1 Signori E ci va molto bene Questa cosa Ci va veramente molto bene Perché Ci dà la possibilità Di essere primi da soli Nel girone Ma soprattutto Appunto Avere le altre due squadre Che pareggiando Ci sono lontane due punti Città comunque Un margine di errore Che ci sta In Champions League ci sta Perché la pressione Le grandi squadre Rischiano di non farti giocare Molto bene Ora Direi che possiamo passare Direttamente Una partita con l'Ellas Verona Che pareggiando La scorsa partita È arrivata Sesta A sette punti Come potete vedere Nel tabellone In basso a destra Ci andiamo a giocare Questo match Con l'Ellas Verona Andiamo a fare la formazione Ragazzi Ragazzi Un po' di elementi Che sono stanchi Giocando così Sempre Tutti i giorni Si fa Si fa dura Ok ragazzi Direi che questa formazione Può andare molto bene Mi piace Mi piace molto Poco al Casser De Pai C'è la Noglu De Luffe Utile Mas Condogbia Luksho Murillo Varane Florenzi Enardi Direi che possiamo andare Piove sempre Piove sempre Ragazzi L'Ellas Verona Inter Sotto la pioggia Si riprende con il campionato Dopo l'ottima prestazione Contro il Legia Varsavia In Champions League Oggi si ritorna Al campionato Con una formazione Un po' rivoluzionata Ci sta secondo me A fare comunque Delle prove A inizio campionato Per poi successivamente Trovare la condizione E la formazione Giusta In ogni caso Ragazzi Sempre sul pezzo E forza Inter De Pai C'è sempre Poco al Casser Che si fa vedere Viene incontro benissimo Mi piace questa cosa Allarga tutto per Florenzi Forse un po' troppo larga Comunque Si fa vedere dietro De Luffeo Prova a entrare in area Gerard De Luffeo Poi prova al tiro A giro Cremato da Lander Se non sbaglio C'è la Noglu Paco al Casser La devia per De Luffeo Davanti al portiere De Luffeo Raffael Poi arriva Paco al Casser 1-0 Per l'Inter Ancora Paco Dopo l'ottimo gol In Champions League Contro legge a Varsavia Segna Anche in campionato Qui Bellissimo il triangolo Chiuso Con De Luffeo De Luffeo Poi in scivolata Prova a colpire Ottima parata di Raffael E poi un altro Splendido gol In semi rovesciata Se non sbaglio Si Più o meno Piegata Di Paco al Casser Ottimo gol L'Inter è in vantaggio 1-0 Il tiro Di Ionita Fuori di poco Mi sembrava Oddio Che cosa ho combinato Mi sembrava ci fosse Polnardi Grande Chiusura di Florenzi Qui Telemans Condogbiate C'è perché arriva Memphis Depay Largo La mette in mezzo Dove c'è Condogbiate Invece c'è C'è la Noglu Che colpisce Cosa è successo Non ci credo Palo comunque Dell'Inter Di C'è la Noglu Ottima parata di Raffaele Che è comunque Rimasto in piedi Finisce qui Il primo tempo 1-0 Dell'Inter Gol di Paco al Casser Se ne va Viviane Attenzione ad Alfredson Che ha un ottimo tiro Nardi Che miracolo Che parata di Nardi Qui è riuscito Malissimo Varane Tempo di cambi Entra Inaki Williams Per De Luffeu E Entra anche Brozovic Al posto Di Tielemans Perché Paco al Casser Può andare È isolato Attenzione a Paco al Casser Dall'altra parte Ce ne sono tantissimi Da soli De Pai Il tiro di De Pai 2-0 Ma che gol Paco al Casser De Pai Signori Che 1-2 Spettacolare Paco al Casser Si crea lo spazio Per giocare il pallone Poi rientra E dà un passaggio Filtrante Spettacolare Per De Pai Un Inter Che ha preso L'Elas Verona In contropiede Molto scoperto Perché cerca Comunque di pareggiare Ma Paco al Casser Dà un pallone Spettacolare De Pai Che di destro Dalla sua Posizione preferita Praticamente Trafiggerà Fael Niente da fare Per il portiere Batterà Valotti La mette in mezzo Valotti Esce Malenardi E c'è il gol Di Juanito Gomez È uscito Molto male Nardi qua Purtroppo Ovviamente Non l'ho chiamato io In questo Cavita Tutti i portieri Di FIFA Non Non lo considero Un errore Dello specifico Giocatore Nardi Perché comunque Tutti i portieri Escono completamente A caso Peccato perché qui Due giocatori Lì potevano Intervenire Tipo Brozovic Poteva intervenire Invece di Guardare il pallone Comunque È la Sverona Che riapre La partita Adesso dobbiamo cercare Di mantenerla Su questo risultato Ovviamente Se non è perché può andare Florenzi Può andare Florenzi Il tiro di Florenzi E la chiude proprio lui Signori Alessandro Florenzi Difesa dell'Elas Verona Immobile E niente Florenzi dal di lì È un gioco da ragazzi Metterla sul secondo palo È il suo pane Praticamente Qua Ottima Percussione Ottimo inserimento Di Florenzi Che è comunque Velocissimo E brucia tutti quanti Sul tempo E dopo due minuti L'Inter Richiude Nuovamente la partita E finisce qua 3-1 per l'Inter Altri tre punti In cassaforte Grande match Ottima prestazione Di tutti quanti Come sempre Stiamo giocando Veramente al massimo Delle nostre forze Tre punti Con l'Elas Verona Ma adesso vi ricordo Che ci aspetta Un big match Contro il Napoli Andiamo in conferenza Stampa Parliamo Bene Del Napoli Andiamoci a giocare Questo match Oggi Cambiamo nuovamente La formazione Maglia rossa Per il Napoli Poi è una formazione Molto Molto Offensiva E direi Direi che così Può andar bene Icardi Griezmann Mares Depay Tielemans Con Dogbia Aspettate che metto Luxo E Florenzi Direi che questa formazione Mi piace molto ragazzi Mi piace veramente Veramente molto Inter Napoli Siamo a San Siro Come ho già detto Primo big match Di quest'anno Di questo nuovo campionato Inter e Napoli Comunque si contendono Insieme alla Juventus Se non sbaglio La parte alta Della classifica Questa è la curva Dell'Inter Abbiamo già visto Comunque la formazione Per la nostra squadra Abbiamo Nardi Show Musacchio Varane Florenzi Condogbia Tielemans De Pai Mares Griezmann E Mauro Riccardi Mi piace il fatto Che riesco a far giocare Tutti Perché Secondo me Tutti Decisamente Se lo meritano Sarà un bel anno Questo Speriamo di toglierci Molte soddisfazioni Qui abbiamo La super squadra del Napoli Lirena Gulanko Libali Kiriches Isai Giorginio Il Caduri Allani Signe Higuain E Gabbiadini Ragazzi Dobbiamo Veramente stare Molto attenti Sempre sul pezzo E forza Inter Buona palla Di profondità Per De Pai Attenzione Perché De Pai Può andare Può andare Memphis De Pai Forse con un fallo Kiriches Perché la spinta Arrivava da dietro Però l'arbitro L'arbitro Fa correre Molto bene Qui Mares Può andare Può andare lui Direi che Lo facciamo lavorare Molto sulle fasce Questo Mares Adesso può anche Rientrare Bella palla Per Mauro Riccardi E adesso Ottima Palla per Griezmann Palo Palo di Griezmann Ma credo fosse Fuori gioco Decisamente Sì Tiemans Bella palla Per De Pai C'è largo Griezmann Il tiro di Griezmann 1-0 Inter Antoine Griezmann E questa volta Il gol è tutto suo Grande azione Dell'Inter Come sempre Ragazzi Lo dico sempre Ma facciamo veramente Delle grandissime azioni Qui De Pai Di fisico Mantiene La larga Griezmann Che si fa vedere E di sinistro Bucareina Che C'era quasi arrivato Di ascella Ma non riesce A deviarla fuori C'è il gol Il gol dell'Inter Con Antoine Griezmann Ho fatto bene A dargli fiducia Ma Pevereina Legge bene L'azione Esce benissimo E si conclude qui Il primo tempo Vantaggio dell'Inter Con il gol Di Antoine Griezmann Attenzione Insigni Grandissima chiusura Di Musacchio Se Insigni Se ne andava anche Da Musacchio Signore Era davanti A Polnardi Attenzione Perché Mares Se ne può andare Mares Se ne può andare E attenzione Perché c'è Tielemans Davanti a Pevereina Tielemans 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 Pevereina E poi arriva Icardi Mauri Icardi 2-0 Dell'Inter Doppio gol Delle punte Dell'Inter Grandissima azione Qui in velocità Di Riad Mares Come al solito È veramente Molto fondamentale Poi qui Tielemans Una gran botta Di Mancino Buona parada Di Reina Poi sul tappin Vincente C'è Mauro Icardi Qua Reina Sicuramente Poteva far di meglio Ma comunque La palla è entrata Griezmann Icardi Direi che Le nostre Tre punte Compreso Compreso Poco Alcassera Stanno Veramente funzionando Attenzione Guain C'è Tu Elke La palla arriva Ma guardate Insigni Che gol Che è riuscito a fare Ma guardate Un po' che roba Qua Iguain La serve A Tu Elke Tira Gran parata Di Nardi E poi Insigne Fa una roba Passesca La riapre Lorenzo Insigne Attenzione Iguain La mette in mezzo Per Lorenzo Insigne Paul Nardi Ci arriva Attenzione Alicca Duri C'è David Lopez Appena entrato David Lopez Il palo E poi c'è Il Caduri E c'è il pareggio Del Napoli Non era fuori gioco Non era fuori gioco E adesso Sinceramente Del pareggio Me ne faccio ben poco Io probabilmente Non ci potevo fare nulla Comunque Ricambiamo formazione La gioca corta per Griezmann Che prova il tiro Ancora Pepe Reina Può andare Cialanoglu Il tiro di Cialanoglu Fuori Fuori di pochissimo Non posso crederci Non posso veramente crederci Probabilmente la partita Finirà qua Bravo Paul E finisce qui 2-2 2-2 Tra Inter e Napoli Guardate ragazzi Guardate le occasioni Guardate Che peccato Veramente che peccato Qui Punti persi Questi sono veramente punti persi Perché sinceramente Napoli non meritava Questo pareggio Allora Andiamo a fare gli allenamenti Dovrei far salire Si Griezmann Che Che Paco Alcacer Ma qua Qua non mi sale nessuno Non mi salgo Griezmann mi fa un bottaccio di gol Ma Non riesco a farlo salire Proviamo a simulare gli allenamenti Vediamo come Come vanno Cialanoglu sale Finalmente Grande a Can Cialanoglu All'81 Mentre Griezmann E Paco Alcacer Ancora sono Ben lontani Quindi Avanziamo Ancora Fino Alla partita Con il Forsburg Ragazzi E noi direi che ci possiamo salutare qui Peccato Veramente per quel pareggio finale Contro il Napoli Comunque ragazzi Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Vi ricordo Lasciate un mi piace Cerchiamo di arrivare a Mille mi piace Per il prossimo episodio Vi ricordo che Ci sarà la seconda partita Di Champions League Contro il Forsburg E successivamente Con il Real Madrid Quindi non perdetevi Il prossimo episodio Della carriera Natore con l'Inter Lasciate un mi piace Un commento Un consiglio Ci vediamo Ad un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti